Il capogruppo di Fratelli d'Italia Viziello ha presentato in Consiglio regionale una mozione diretta a promuovere la vaccinazione in favore dei donatori di sangue, il cui gesto solidaristico, ha detto, è fondamentale per garantire l'efficacia e l'affidabilità del nostro sistema sanitario. Grazie alla generosità e al crescente numero dei donatori di sangue, ha spiegato, oggi l'Italia riesce a sopperire autonomamente alle proprie necessità ematiche, anche se con l'approssimarsi della stagione estiva e delle vacanze si assiste ad un calo, per così dire fisiologico, delle risorse di sangue disponibili. Riteniamo, ha concluso, che la richiesta dei donatori di sangue di essere vaccinati sia comprensibile e debba essere soddisfatta al più presto, alla luce dell'ultima nota ufficiale del Ministero della Salute, che chiarisce come i donatori di sangue potranno essere vaccinati contro il Covid dopo le categorie fragili e più a rischio già individuate dall'attuale piano vaccinale e della considerazione che, grazie al loro gesto periodico, i donatori di sangue consentono di salvare tante vite umane, garantendo al contempo uno dei livelli essenziali di assistenza del Paese. Grazie.